in occasione dei 40 anni della legge 180 il consorzio di cooperative sociali il mosaico sostiene il laboratorio teatrale fuori di scatola che si propone di affrontare il tema della salute mentale il laboratorio si svolgerà da ottobre a dicembre 2018 a gorizia e san vito al torre per info e iscrizioni socialità chiocciola consorzio il mosaico punto org